Ma direi dieci iniziative molto importanti che anche quest'anno abbiamo voluto racchiudere in un volume con tanti in Sporson che ringraziamo per il loro sostegno e feste devo dire tutte interessanti, dal Po a quella di Mezzani, a quella di Tizzano alla Pennino, un'afferta interessantissima anche sotto profilo culturale quella al Museo Guatelli per Collequi e Fornovo e tante belle iniziative con quella provinciale che sarà a Metta Luglia Traversetolo e con quella cittadina a Parma al 20 settembre, 19-20. Devo dire iniziative importanti con tanti volontari, con tante iniziative politiche di battito ma anche con tanto svago come le feste richiedono e come le feste dell'Unità in particolare che quest'anno compie 70 anni. Siamo contenti, siamo soddisfatti di quello che siamo riusciti a mettere insieme, un grazie di cuore a tutti i volontari che si impegneranno e anche un grazie di cuore a tutte le persone che andranno alle nostre feste come momento di incontro, di dibattito ma anche di divertimento e di passione per stare insieme. Abbiamo anche quest'anno continuato la modalità organizzativa che avevamo scelto l'anno passato per promuovere la nostra festa provinciale una festa provinciale che diventa itinerante quest'anno appunto sul Circolo di Traversetolo è una festa che durerà quattro giorni dal 16 al 19 luglio e avrà la presenza di ospiti importanti quali il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Boneccini, il responsabile del Partito Democratico Filippo Taddei responsabile nazionale Economia e Lavoro e il Ministro della Giustizia Orlando. Avremo anche una serie di iniziative culturali che verranno organizzate dopo cena in uno spazio di libreria che abbiamo allestito al proposito, l'area è grande, abbiamo una grande arena spettacoli per musica dal vivo e spettacoli musicali tra cui cover band di gruppi per anche cercare di raggiungere un pubblico un po' più giovanile siamo soddisfatti degli ospiti, stiamo finendo l'organizzazione e insomma vi invitiamo tutti quanti alla festa provinciale che quest'anno si terrà a Traversetolo dal 16 al 19 luglio.